Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Esporo di 07 Siamo qui con le pagelle di Inter e Juventus 1-2 Partita conclusa, sì, con un ottimo risultato in ottica qualificazione per la formazione di Andrea Pirlo Nonché la mia super squadra del cuore Ringrazio il buon Antonio per le pixart ragazzi Ricordo che le pagelle è un appuntamento che esce praticamente dopo ogni partita Se non le vedete è perché magari la partita o stavo male che non riuscivo a recensirla ragazzi O probabilmente sarà stata una partita poco importante Per quanto riguarda, partiamo subito con il video Partiamo da Buffone che si becca un bel 6 6 perché sicuramente poteva fare di più in occasione del gol di Lautaro Martinez Ma ha anche fatto un grande riflesso in uscita nel primo tempo E soprattutto una parata chiave in ottica qualificazione sul Darmiano nel secondo tempo Quindi sì, ha fatto un errore nel primo tempo Un errore comunque non da lui Però comunque ha rimediato da grande campione quale Quindi grande Gigi, un errore, anche un miracolo Quindi il 6 a casa se lo porta tutto Quindi grande Gigi 6 e mezzo invece per Matix De Ligt Matix De Ligt che mette ordine in difesa Anche più di De Miral, non si fa mai trovare impreparato Magari in occasione del gol di Lautaro lo poteva fare di più Ma le responsabilità maggiori in occasione del gol interista Non sono praticamente per nulla le sue Anzi, probabilmente lì gli errori sono stati maggiormente di De Miral e di Alessandro Sinceramente, anzi soprattutto di Alessandro Però va bene ragazzi, 6 e mezzo per De Ligt Per quanto riguarda invece il suo collega di reparto Il buon, stavo per dire, Darmi Darmiani Invece lui è Demi De Miral Si prende un 6, gran salvataggio sulla linea Ma va detto che comunque ha fatto quel salvataggio Anche perché si trovava lì ragazzi Cioè nel senso mi trovavo anch'io Anch'io magari ci sta la goduria e tutto Però ragazzi si trovava lì Per il resto non fa una grandissima partita sinceramente È molto irruente nei falli Dà sempre la sensazione di esserci arrivato al limite Li fa anche Chiellini quelle cose Però ragazzi Chiellini non le sgara quasi mai Lui è troppo irruente invece ragazzi Per questo si porta un 6 Comunque buono a casa 5 e mezzo per Alessandro Ritorna il senso di Alessandro Quello che sembra non avere praticamente voglia neanche di correre Veramente, veramente male Alessandro ragazzi Cioè io spero che prendano un altro insieme sinistro Perché oramai è il quarto anno Che inizia a fare un po' cagare Quindi poi non lo so Spero per lui che si risvegli Perché è troppo troppo discontinuo Quando gioca così Veramente è un male agli occhi ragazzi Per il resto comunque non fa neanche troppo male Ricordiamoci che è tornata un infortunio Quindi il 5 e mezzo ci può anche stare 7 invece per quadrato Il solito quadrato si propone un rigore Si propone nell'azione In finale del primo tempo Propone un'azione veramente Che parte sicuramente da lui Quindi perfetto E fa il solito quadrato In fase difensiva È un po' Quello che è ragazzi Infatti quando gioca Danilo dietro di lui Si sente sicuramente molto molto più sicuro E spero che sia questo Per il lungo andare della stagione Con Danilo dietro di lui È lui che si sposta Definitivamente in In esterno destro ragazzi Per quanto riguarda Rabiot Si porta a casa un buon 6 e mezzo Ha fatto una bella partita Lui ricordiamo che A mia detta è un giocatore abbastanza discontinuo Ragazzi però quando gioca bene Veramente è un ottimo centrocampista A mio modo di vedere Il francese dimostra quantità e qualità In mezzo al campo Quando gioca bene Veramente è un piacere vederlo Per il resto Spero che possa continuare così Perché è uno dei pochi centrocampisti Che abbiamo in panchina E quindi deve farsi trovare pronto Quando capitano certe occasioni E ieri comunque L'occasione è stata sfruttata Quindi bene Rabiot Per quanto riguarda Bentancur Anche per lui a casa un 6 e mezzo Le avrei dato anche 7 e mezzo Perché ieri secondo me In cabina di regia Ha retto il centrocampo Praticamente da solo Però è anche vero che Molte Non è neanche la prima volta Che sbagli i disimpegni ragazzi Infatti De Miral e Buffon Hanno salvato Il salvabile Sul suo disimpegno Poteva costarci Veramente Veramente caro Per il resto Comunque ottima partita Regge il centrocampo da solo È in crescita In visione di gioco Veramente perfetto Propone sempre l'azione Già a pensare La cosa Che devi fare Prima di avere il pallone Dimostra che È comunque un ottimo centrocampista 7 per McKennie Solito lavoro Perfetto in fase di pensiva Perfetto in fase di insedimento È una macchinetta Avanti e dietro Avanti e dietro Avanti e dietro Una macchina da guerra Ragazzi McKennie Oramai Credo sia Il giocatore più costante Ogni partita Fa la stessa prestazione Sarà difficile Vederlo fare errori Quest'anno E fu così che Dalla prossima partita McKennie inizia a far cagare Però veramente McKennie Sta facendo veramente Un'annata di Cristo Sente una fiducia Veramente così importante Che è determinante Anche nei suoi risultati Quindi veramente Veramente bene L'americano Perché tutti lo chiamano L'americano Nessuno lo chiama McKennie Per quanto riguarda Bernardeschi E' veramente un disastro Ogni pallone che tocca Lo sbaglia Specie nei primi minuti Però poi si rifà Durante la partita Perché è autore Soprattutto di un ottimo Pressing avversario Corre avanti e dietro Ha messo in mezzo Anche qualche bel cross Però è anche vero Che tanti ne ha sbagliati Quindi col voto Non voglio esagerare Però per il momento Una buona prestazione Diciamo che abbiamo trovato Il suo ruolo L'esterno sinistro Di riserva ragazzi Perché più quello Più di quello Non sa fare Per quanto riguarda Invece gli attaccanti 5 e mezzo Per cui Luise Heschi In posizione di seconda punta Fa bene e non Cioè nel senso Una seconda punta Che lo puoi mettere Come riserva Magari in qualche partitella Magari come in Genoa Con la spalla Sta cosa di mettere La seconda punta La potevi fare Ma per il resto No ragazzi Perché Luise Heschi Non è una seconda punta E' un esterno destro Che può giocare Tre quartiste E può giocare mezzala E' un fortissimo Senza ruolo Diciamo così ragazzi Molto molto promettente Ricordiamo che è un 2000 Quindi è ancora tutto il tempo Del mondo per crescere Però per il momento La strada è sempre quella giusta Per quanto riguarda La partita di ieri Comunque si porta a casa Un 5 e mezzo Un man of the match Invece Cristiano Ronaldo Torre di una doppietta Freddo nell'occasione Di rigole Ha la voglia di spaccare il mondo Finalmente ho visto Una partita da Cristiano Ronaldo Comunque per me Per appoggiare quel pallone In porta di piede debole La posizione comunque Abbastanza defilata Devi essere comunque Un campione Ha fatto veramente Una partita di Cristo Tralasciando i due gol Che magari sono un rigore E un gol procurato Magari da un'incertezza Difensiva dell'Inter Però veramente Veramente bene Cristiano Ronaldo Ieri l'ho visto in forma Col fatto che è uscito Rattristito magari Può dargli la carica Che gli mancava Nelle scorse partite Per quanto riguarda Danilo Entra Fa il suo dovere Difesa Mette ordine Con lui la difesa Viene molto molto più ordinata Almeno per quanto riguarda Il gioco di Pirlo Quindi il suo 6 quotidiano Danilo se la porta a casa Veramente Grande prestazione Cioè Grande Grande stagione di Danilo 6 per Arturo Anche lui Entra e mette ordine Al centrocampo Ciò che serviva Ciò che voleva Pirlo Andare in vantaggio E poi mettere Arturo e Danilo Per mettere ordine E loro l'hanno fatto Giano a casa Se lo porta Per quanto riguarda Pirlo Pirlo invece si merita Un buon set Comunque ha fatto Ha preparato bene la partita Rispetto a come l'aveva preparata In campionato Ha vinto a San Siro Mica male Aver vinto in trasferta Con Milan Inter e Barcellona Nella stessa stagione Ragazzi Cioè Devi essere veramente Un allenatore contro coglioni A proporre Bernardeschi Bernardeschi che ha anche fatto Una dannia prestazione Ragazzi Quindi veramente Pirlo dimostra Di avere il coraggio Per allenare Ieri l'ho visto particolarmente bene E la prima volta Che fa 5 vittori di fila Ha già vinto Il suo primo trofeo di allenatore E ora veramente Poteva fare qualcosina in più In campionato Perché pareggi con Benevento, Crotone, Verone Eccetera Però veramente Adesso abbiamo tutti Fiducia nel nostro mister Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Ti invito a lasciare un mi piace Che non si contiene Un dislike Come se siete d'accordo O desaccordo con me Se l'avete ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione Il link per assicurermi su Instagram Da Monosport07 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao